Salve alla gente di Gabby e benvenuti su Casa Contro Casa Questa volta sono seguito dai nostri simpatici amici Goddex e Yuzza Yuzza sa fare mille voci quindi facciamo la prima Sono Yuzza in versione vecchio, ho tanti anni, 40 mila e sono sancho, molto sancho Fai il bambino Li avete già visti in un episodio di Among Us, trovate il loro canale in descrizione Ma adesso siamo qui per una sfida ragazzi Una super sfida Sì una super sfida suprema, incredibile Dobbiamo fare, avete presenti i super eroi? Hai presenti i super eroi? No, no scherzo, certo che abbiamo presenti i super eroi Quindi ragazzi uno a testa adesso dovrà fare il suo super eroi preferito Ragazzi voi lo sapete il mio qual è, lo sanno tutti dai lo sapete anche voi Sì lo sapete Spider-mano Ecco spider-mano Spider-mano Esatto, tu cosa vuoi fare Goddex? Ovviamente il dio dei fulmine del Valhalla Thor Ok Thor e tu Yuzza Io il dio delle frittelle e delle pizze, Superman Ah ok pensavo Super Mario, dato che Ok va bene ognuno ha un suo super eroi Ognuno ha in mente qualcosa da fare Ragazzi noi abbiamo fatto spider-man anche recentemente Direi che il nostro uomo al bagno lo faremo ben presto Allora ragazzi che vinca il migliore Ovvero io Ma come no non fa come Sto scherzando Vai 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 fatemi vedere di che blocchi siete fatti Ah tanti blocchi blocchi Prendo la terra cotta, prendo la lana rossa perché spider-man ovviamente ha fatto rosso tutto rosso Sì sì io adesso intanto per fare spider-man ragazzi si parte quella base rossa Una bella, un bel blocco così tutto quadrato, bello Oh voi non prendete appunti eh mi raccomando Ah no 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 eh Ti copieremo tutto Aia vedo già che comunque il quadrato l'avete copiato a posto Dai il quadrato è copiato Ma aspetta io mi aiuto con la world edit perché devo far tutto a mano? Vado così zac E' vero che volvi sei Ecco hai visto? Genio big brain qua Set wool Qual era il colore rosso? Non è quello Adesso devo andare a casa a tentoni finché non lo trovo Andaggio a me Ok I supereroi più belli Thor Ah dai Thor è sempre secondario rispetto a spider-man E poi di stare attento Poi Thor è pericoloso Se ti lancia un fulmino nel posto sbagliato Non ci sei più spider-man al massimo Ti infila una ragnatela in bocca Ti cuccia la bocca Se ti vanti troppo Però Viene forte dai E' un dio E vabbè Anche spider-man l'hai visto come vola tra i palazzi E perché? Perché? E' il superman che fa? Non vola Vole come? Eh voglio vederlo però E' senza mantello Per ora non è un superman Per ora è un cavolo di blocco Senza senso Eh ma si sa I super diventano super Potremmo unirlo praticamente Se ti do il mio rosso al blu Diventano da superman forse Però io sono geloso E me lo tengo Adesso devo fargli la maschera ragazzi Ora Che spider-man è Senza la sua maschera da supereroe Guardate qualche roba Guardate qua la sua maschera Ragazzi non sembra spider-man Non sembra per niente Sembra tipo Sembrava un bruttissimo Raffinatore della domenica Guardate Voi mi avete dato un quadrato che non è simmetrico Ci dispiace Era tutto calcolato Ma sapete cosa cavolo faccio adesso? Cancello tutto Ma no Ma schifo Ma no Ma schifo Adesso lo rifaccio da capo Sembrava più devil È vero Ormai è troppo tardi Adesso rifaccio la maschera Oh Oh Ora ce l'abbiamo Ora ce l'abbiamo Ora ce l'abbiamo Ce l'ho Ovviamente Ce l'hai Ce l'hai Mi devo sbrigare Mi devo sbrigare Mi devo sbrigare Senza cielo Adesso Sotto sotto Quanto quattro Mi metto una tnt sotto Divento io super cattivo Spiderman non hai sentito niente Civil war Comunque dai La mascherina carina Non so perché la sto facendo stile occhiali Se non ho più degli occhiali Però mi piace così È il mio Spiderman Non il vostro Ok Non ho ancora finito E poi sapete Gli devo fare un pet Che Spiderman è Senza un ragno Quindi io adesso Guardate cosa gli faccio Oppure il ragno Guarda glielo faccio sui capelli Sarà i suoi capelli Spiderman è un pelato Poverino Quindi gli devo dare dei capelli Guarda quanto è fiero Il mio superman Indica Thor Thor Sai Tu fai proprio Le puzzette di notte E c'è un creeper Che ti ha visto E io sono superman Lo sai È una guerra civile Faremo Adesso mi sto arrabbiando Adesso Io veramente mi arrabbio E faccio la guerra A Thor Perché sono superman Sono troppo affare Ehi senti Spiderman Perché non ce le amo Cioè magari No 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 Il mio Spiderman è ancora in pensione C'ha praticamente Un ciuffo di Elvis Presley In testa Che doveva essere un ragno Ecco ci siamo capiti Io e Yuzza A posto Va bene Un ragno Guarda Guarda Già Già così Già così Aspetta 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 Perché non ci sono le zampette Guardate quanto è bello il mio logo Il logo di superman Comunque se questa è una S Io mi chiamo Gabby32bit Infatti Ciao Gabby32bit Comunque il mio ragno è quasi fatto Quasi dico Manca solo un po' meno cicciotto Le gambette Le gambette Non è brutto Non è brutto Abbi di qui ti devo dire una cosa Un'altra cosa incredibile Dimmi Dimmi Tipo 32 Dimmi Quello che volevo fare io Te stavo chiedendo la stessa cosa Togliamo ogni prova comunque Allora aiutami a fare le gambette Non dire niente Non dire niente a lui Aiutami a fare le gambette Io lo so Tu hai un talento a fare le gambette Vedi Vedi Sa già come fare le gambette lui Sta imparando dal migliore Avete visto? Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Cioè veramente Mi hai aperto un mondo Mi hai aperto il mondo delle gambette Tu sei incredibile Guardalo Sembra che le faccia da anni Secondo me lui tutta la vita Si è allenato per questo momento Per fare le gambette Io intanto vado a fare una buona azione Ah Con una TNT Ah Beccato Ma che beccato Stavo andando tipo a distruggere un villaggio Sì 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 Andai a fare In realtà Andai a fare la cacchia La mia tattica era comunque Una che non ti aspettavi Adesso te la mostro Nooo Cosa stai facendo? Non si può Volevo aprire le mura Con il mio muro di Creeper E guidarli verso la tua base Nooo Non posso Gatti cattivo Perché avete pensato anche a questo? Gatti Non è un super eroe Ma anche se fosse Scusami I più forti Sono sempre più forti No comunque ci sarebbe Spider-Man Che mi avrebbe fermato Comunque Era per metterlo alla prova Per vedere se lo Spider-Man Che avevo creato Mi avrebbe comunque fermato Vedi? E mi ha fermato con la forza del pensiero Non potevo mettere i Creeper E qui sui sensi di ragno Sono Vanno oltre La nostra semplicemente umana Ora è già meglio Ora è già meglio Si Ora Si sento Ora Vedi? Bastavano due dentini Da latte Per fare il ragno Da latte Perfetto Oh e abbiamo anche l'interno Qua adesso ci metto Mary Jane La stanza di cuori La stanza dell'amore di Peter Perché Peter nella testa Ha solo Mary Jane Ho capito Però dai Solo una Sbisca È solo per me Potevate pensarci prima Che Peter è l'unico Supereroe Che ha le gnocche Anche Thor Si però Thor È tipo sottinteso Perché lui è un dio Lui può vedere tutto Sgoccare le dita È un dio È un dio È il più bello di tutti Voi non capire Eh si perché lui Lui aveva il potere Di scegliere Di essere bello Perché è un dio E cosa scegli Se sei un dio Di essere bello ovviamente Ma c'è Peter È nato storto È vero Allora Tiene da dire che gli effetti Il dio del tuono Sì però Quei tuoni Peccato che escono Dall'altra parte Aia 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 Basta 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 Ok ho già fatto Un cuore Sì Più o meno E per Mary Jane Ovviamente Sapete come fa Peter No? Peter è eroe Fino a lì Cioè Mary Jane Col cavolo Che voleva stare con uno Che andava in giro Per i palazzi Andava un po' Da tutte Perché alla fine Cosa fai con le ragnatelle Vai un po' di là Vai un po' di su Cioè alla fine Mary Jane Allora Siccome Peter Comunque l'amava più Delle altre amanti Cioè Peter era pieno Di amanti Però Mary Jane Insomma Era la sua preferita Ok? Eh però Ha fatto una scappatina Con Gwen Eccola qua La nostra Mary Jane Nella sala del trono Dell'amore Chiusa Dalle ragnatele Così non può scappare Ecco qua Peter Cattivello Ora Più o meno La stanza Ci mettiamo ancora più cuori Per far vedere Quanto ossessivo È Peter Nei confronti di Mary Jane Cuori di ragnatele Cuori di carne Cuori di su Cuori di giù Ci abbiamo Poi andrò a visitare Le vostre stanze ragazzi Ma so già che la mia Sala di torture Mary Jane È la migliore Ok Ora ovviamente Ci vogliono dei quadri A tema ragno Dimmi che ci sono Perché io mi ricordo Che su Minecraft C'erano Trovato Oh Perfetto Solo ragni Solo ragni Non sono felice Eccolo qua Un altro posto Oh Perfetto Perfetto Guarda che bello Guarda che bello Povera Mary Jane Povera un piangere Arriverò io IQ52 Il vero supereroe Altro che Spider Guarda 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 Avete visto Superman dovrai arrivare Prima o poi Dovrai arrivare Come fa È impossibile Hai visto Questi sono tutti i cuori All'ossessione di Peter Perfetto a Mary Jane Che l'ha intrappolata Sono sempre Un pazzo Un pazzo Un pazzo Non sono io È colpa di Peter Questo è quello che Peter Ha nella sua testa E ragazzi Siete caduti Nella mia trappola Ora Peter Ora che avete scoperto Il suo segreto Farà cadere Della lava Dal soffitto E non potete fare niente Per scappare Addio Prenderò io Ok ora posso andare a vedere Cosa avete fatto Ah ok Superman Va bene Dai vi apro la porta Sto scherzando Scappate Finché Ehi Lo distrutto io No Mary Jane Mi ero dimenticato Mi ero dimenticato di te No Peter Ragazzi a fine episodio Facciamolo saltare in aria È diventato cattivo Evil Peter Come vi ricordate Quello Spider-Man Dove è Peter È diventato bene Esatto Il mio nome è Clark Kent Ma quando c'è un pericolo Divento Superman Prego entrate Perfetto Guarda qua Questi sono tutti Perché Clark Kent È anche super intelligente È un nerd Quindi per quello Aveva tutta la La stanzetta con i libri Con le tecniche Per diventare Qua si studiava i nemici Il suo pericoloso Re Quercia Uno dei nemici I primi nemici Affrontati dal nostro Clark Eh Mini fantasmino E Re Quercia Ok abbiamo visto E poi qua La stanza della giovinezza Dove Clark Kent Nella sua gioventù Passava Ecco Da piccolo In un lettino Quando era Si buttava dalla finestra Senza mantello Si è fatto qualche infortunio Però poi si è reso Avete visto So tutto Yuzza Ho detto per fine per segno La tua storia Ti ho letto nel pensiero Beh Ti hai ragione Ma adesso andiamo da Thor Il dio delle scuriglie Esatto Potete passare Dove volete Ecco Thor ovviamente Ha scuoiato A mani nude Un orso Che si è messo lì Come tappeto Ogni tanto ci fa Meditazione yoga Sopra Qui invece Abbiamo il vino Perché ovviamente Un grande ubriacone Come lui Conosciuto anche La birra Esatto La birra del Valallo A volte viene scambiato Per il dio Bacco Non si sa il perché O forse si sa il perché Per il resto La sua chitarra elettrica Perché il dio del tuono È sempre collegato al metal E anche nel metallaro Si trova con i capelli lunghi Chitarrista Degli Iron Maiden Il suo mantello Il suo martello Quale il suo mantello Qua invece ci mette Il suo martello E spacca tutto Insomma veramente Delle ottime case Per la mia più bella Era la più bella Perché sta andando A fuoco Manca poco Va bene ragazzi Per concludere in bellezza Ce ne andiamo con il botto Mettiamo le TNT Facciamo saltare in aria Peter Prima che conquisti il mondo E diventi Venom Quindi ragazzi Ormai C'è Mary J Che sta ancora morendo Pugniamo fine le sue sofferenze Allora per darmi una mano Niente Per metterli a TNT La mano me la danno Veramente con impegno Con impegno Va bene dai ragazzi È stato bello Con voi dentro Oh ma come A posto È rimasto solo il ragno Il ragno è rimasto E vado io A cavallo del ragno Ad attaccare il mondo Mua Va bene Io e il ragnone Vi salutiamo ragazzi Questa è stata la build battle Epica dei supereroi Ragazzi ovviamente Noi siamo eroi Tutte le cose che avete visto Sono uno scherzo Un prendersi in giro Ovviamente Spider-Man lo sappiamo Che bravo Buono Bello Il mio Ha avuto un attimino Come tutti Un attimino Dove si è dimenticato di esserlo Ma tranquilli L'abbiamo sistemato Tornerà più forti Dopo la convalescenza Mentre Salutiamo Superman Che ovviamente Super non può morire Quindi è intatto È nostro amico Del tuono Fateci bene in un commento Qual è la vostra struttura preferita Io vi ringrazio tantissimo Godex e Yuzza di nuovo Trovate i loro canali In descrizione Se volete A darci un'occhiata Ci vediamo Al prossimo video Al prossimo episodio Ciao ragazzi Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio